E' già oltre, ma proprio oltre. Io non gli dò più nessuno, scusa, se ti interrompo, non gli dò più nessuno spaggio perché è un voto. C'è pigliato due metri, basta così. Ma se te lo chiedo io, un altro un metro! No, no, no. Mentre su questo piano ti blocchi i lavori subito, tu blocchiamo! Eh, blocchiamo, blocchiamolo perché... No, e blocchiamo, e blocchiamo! E quello che faccio un'ordinanza se ti faccio un lavoro! Se non avessi dovuto dirmi, metterlo in quel cazzo vuoi! Grazie a tutti